Ci siamo presi l'impegno sin dal giugno del 2008 nei confronti della Sicilia e dei siciliani di cambiare la sanità e la salute, una sfida che intendiamo vincere e siamo consapevoli che per vincere bisogna innanzitutto convincere, convincere i operatori, convincere i cittadini, convincere gli utenti che cambiare si può e che cambiare in Sicilia nella sanità si deve. Noi abbiamo declinato tutti e tre gli aspetti del piano e rientro, la gestione oculata delle risorse non attraverso i tagli trasversati ma attraverso una riconversione delle risorse medesime in un processo di reingegnerizzazione, si dice così ma preferisco chiamarlo di riorganizzazione complessiva che ha dato alla Sicilia finalmente un sistema degno di questo nome. Atenna sanitaria provinciale di Catania, centro unico a prenotazioni. Si autorizza l'operatore al trattamento dei dati sensibili attende in linea, altrimenti chiude la telefonata. Nell'attesa la rinformiamo che per prenotare è necessario avere già l'impegnazione rilasciata dal netto. Buonasera, sono Loredano e cosa posso essere utile? Sì, buonasera Loredano. Senta, dovrei prenotare una topografia. A nome di? Dato di nascita? Sì. Cosa prenotiamo? Topografia corneale. Tomografia? Topografia corneale. Così c'è scritto qua. Topografia corneale? Sì, sì. Dove la vuole fare? Non so, dove? Ho solo due strutture dove la fanno, Acireale e Paternò. Ah, più vicino non c'è niente? E allora, prima data utile siamo a Ospedale di Acireale l'11 maggio e Paternò siamo ben... 11 maggio? Ma 11 maggio 2011? Sì. Mamma mia. Oppure? Paternò. Paternò. Ma scusi, Giare... Per il 20 di dicembre. Giare, Sandazzo. Senti un attimo. Sì, grazie. Sì, al momento la fanno solo a Paternò e a Acireale. Ah, ho capito. Guardi, io con questi tempi di attesa non posso prenotare, perché Paternò è molto lontano. Non lo so, mi dica lei se vuole prenotare o meno. No, no. Su Paternò siamo per il 20 di dicembre, Acireale siamo per maggio. Io vivo, no, io vivo troppo lontano da Paternò, mamma mia. Mi dispiace, allora, non la posso aiutare. Grazie per averti amato. Grazie a me, una buona giornata, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.